Il Dieselgate ha fatto meno male di quanto si fosse preventivato. L'utile netto di Volkswagen del primo trimestre si è calato a 2,31 miliardi, meno 20% rispetto a un anno fa, ma quello operativo è addirittura aumentato a 3,44 miliardi contro i 3,33 dei primi tre mesi del 2015 e i 2,8 previsti. Al netto di poste straordinarie per 300 milioni, anche in questo caso si registra però un segno meno. Contenuta la diminuzione del fatturato, meno 3,4% attestato sia 51 miliardi. La trimestrale non è comunque piaciuta ai mercati, il titolo è arrivato a cedere fino al 3,5%.